Giovanna d'Arco, la pulsella d'Orleans. Giovanna d'Arco è una figura eroica della storia francese, venerata come santa dalla Chiesa Cattolica. Nata nel 1412 in una famiglia contadina, Giovanna iniziò a ricevere visioni da San Michele, Santa Caterina e Santa Margherita all'età di 13 anni. Queste visioni le ordinarono di guidare l'esercito francese contro gli inglesi, che avevano conquistato gran parte del paese durante la Guerra dei Cent'anni. Giovanna si presentò alla corte di Carlo VII nel 1428 e, dopo essere stata esaminata da una commissione di teologi, riuscì a convincerlo di essere stata inviata da Dio. Carlo VII le diede quindi l'incarico di guidare l'esercito francese a Orleans, una città assediata dagli inglesi. Giovanna arrivò ad Orleans il 29 aprile 1429 e, dopo soli nove giorni, riuscì a liberare la città. Questa vittoria fu un punto di svolta nella Guerra dei Cent'anni e diede un nuovo impulso al morale degli inglesi. Giovanna continuò a guidare l'esercito francese in altre battaglie, tra cui la vittoria di Patai nel 1429 e la riconquista di Reims nel 1429, dove Carlo VII fu incoronato re di Francia. Tuttavia, nel 1430 Giovanna fu catturata dagli inglesi e consegnata al vescovo di Rouen, Pierre Cauchon, un sostenitore della Casa Reale inglese. Cauchon la accusò di eresia e stregoneria e la fece processare in un tribunale ecclesiastico. Giovanna fu condannata al rogo e bruciata viva il 30 maggio 1431, all'età di soli 19 anni. La figura di Giovanna d'Arco è stata oggetto di numerose opere letterarie, cinematografiche e teatrali. È considerata un'eroina nazionale francese e un simbolo di libertà e speranza. Il contesto storico. Giovanna d'Arco nacque nel contesto della Guerra dei Cent'anni, un conflitto tra Francia e Inghilterra che durò dal 1337 al 1453. La guerra era iniziata con la pretesa del re d'Inghilterra Edoardo III di essere erede al trono di Francia. Nel corso del conflitto, gli inglesi avevano conquistato gran parte del paese, compresa la capitale, Parigi.